Una folla di turisti ha invaso le vie del centro storico di Gubbio, per una Pasqua da tutto esaurito, sia nei ristoranti che negli agriturismi. Al completo anche tutte le strutture ricettive ed alberghiere, fino a 20 km, senza contare tutte le persone arrivate in camper. Famiglie, coppie e gruppi hanno così scelto di trascorrere le festività nella città di Pietra, che ha accolto i visitatori con eventi e mostre. Importante anche la presenza delle navette gratuite, sia per il centro che per i parcheggi esterni, con la polizia locale che ha svolti il servizio di pubblica sicurezza, sia nel centro storico che nel territorio comunale, con funzione di pronto intervento. Per l'occasione sono poi stati riaperti i bagni pubblici di via 20 settembre, sottoposti a lavori di riqualificazione e sistemazione per i quali l'amministrazione comunale ha investito 45.000 euro e che, per questo weekend, sono stati fruibili gratuitamente. Il pensiero è poi andato anche ai più piccoli, che nei giardinetti di Piazza 40 Martiri hanno potuto trovare spettacoli ed intrattenimento, con animazione, baby dance e trucca bimbi. Nel lunedì dell'Angelo, invece, tanti laboratori dedicati a bambini si sono organizzati a Piazza Grande. Un grande successo di numeri, dunque, che non è destinato ad arrestarsi. Il prossimo fine settimana si terrà la Spartan Race, famosa gara ad ostacoli, che è già pronta ad ospitare oltre 5.000 atleti provenienti da tutta Italia e da diverse parti del mondo, dal continente americano fino a quello asiatico, anche in questo caso già raggiunto il tutto esaurito.